i tuffi almeno ci fa prendere qualche rigore quadrato no sono con un gobbo e ha detto che abbiamo fatto un acquisto fantastico almeno ci fa prendere qualche rigore no almeno servirà a qualcosa qualche rigorino ce lo fa prendere sono pronto a tuffarmi questa nuova vecchia abbiamo parola e mi rivolgo pure a matteo al desi al dissidente la che ha anche lui ora è al mare se ne sbatte i coglioni però siamo senza parole giuse è distrutto il corcione non sa cosa dire più invece il lecca lecca invece continua a dire grande acquisto grande acquisto indubbiamente come il calciatore era bravo adesso è diventato meglio però ragazzi eticamente caro marotta non parliamo di etica che stai